ciao a tutti e bentornati con una volta su indie gameplay ita oggi siamo su going medieval in un video un po particolare perché siamo in compagnia di mister delrick salve a tutti i ragazzi ben ritrovati questo video è sì da quanto questo è un video un po particolare devo dicendo perché vorrei che mister che ci ha già giocato parecchio ci spiegasse un po le cose un pochino più avanzate perché in questi giochi tutti lo iniziano lo giochicchiano ma poi magari le meccaniche quelle un po più avanzate bisogna giocarci diverse ore quindi magari si fanno tanti video e un pochino ci si annoia e allora ho deciso di fare questo provare questo format in cui abbiamo un esperto nel settore ma prima ancora di cominciare io voglio farvi vedere l'immensa roadmap perché questo è un gioco che si ispira un pochino a rimworld anche a timber and stone volendo lo avevo già portato parecchio a rimworld parecchio e l'avevo già portato il 14 di agosto del 2020 era la beta poi adesso mi è arrivato il gioco completo nelle feature pianificate ci sono che adesso mancano nel gioco il trading e i mercanti le caravane la diplomazia tra insediamenti le interazioni sociali la l'influenza della religione il fuoco l'infiammabilità degli ambienti la neve che si accumula perché ci sono le stagioni adesso comunque col freddo e tutto organic dirt pattern quindi sono le non so dei sentieri di terra organica armi da sedio il ride verso altri insediamenti sistema di vassallaggio e le mappe delle fazioni il sistema prigionieri molto interessante questo la possibilità di ammaestrare gli animali selvatici gli animali invece da pericoli e grandi obiettivi non so cosa sia le caverne naturali e rovine armi più strutture più musica più mappe più risorse insomma c'è tante tante tanti progetti tanta carne al foco come si dice ma lo iniziamo lo iniziamo in peaceful dc già il gioco è molto giocabile voglio dire cioè non è uno di quegli alfa in cui ti rompi le scatole subito perché in realtà già il gioco è estremamente fruibile io ecco tu hai detto che sono un esperto non è assolutamente così in realtà cioè ho fatto una partita bella lunga ho iniziato con una partita peaceful semplicemente perché già imparare le meccaniche della sopravvivenza dei personaggi con le stagioni non è non è cosa semplice una volta che si è un po padroneggiato queste tecniche cioè che cosa costruire come costruirlo e il perché e quando ti aiuta poi a poter affrontare la partita standard che comprende il fatto che ti attacchino dei nemici e quindi devi anche difenderti ma quindi dici di provarla in peaceful per far vedere un pochino come funziona perché la survival è quella più difficile la standard si la survival si sono attacchi molto più frequenti e più in tempi più brevi ecco diciamo così la standard è sicuramente quella con cui la maggior parte delle persone che amano questo genere di giochi cominceranno la peaceful è fatta apposta per chi vuole imparare a come costruire cosa costruire e far sopravvivere alla propria colonia senza avere un po diciamo così la rottura delle scatole di doversi difendere da degli attacchi ecco quindi per cominciare sicuramente una cosa che consiglio a chi non mastica molto il gioco poi ecco vi dovete immaginare un rim world in 3d quindi potete costruire anche in altezza e in profondità sotto terra per cui questa cosa mette veramente già tanta carne al fuoco ed è interessante sì perché praticamente si è sì scusami scusami no dicevo perché la temperatura varia in base alla profondità all'altezza insomma quindi esatto ecco esatto qui praticamente c'è da dover decidere come come partire c'è la possibilità di partire nella maniera più classica new life quindi con un po di risorse iniziali e con tre abitanti con tre coloni lone wolf pochissime risorse e un solo abitante e poi ci sono c'è la possibilità di personalizzare la propria la proprio il proprio scenario praticamente quindi come si parte con quanti abitanti eventualmente anche con che tipo di risorse inizia con te direi no sì 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 partiamo con quella più classica direi anch'io bella questa mi piace la mappa l'avevo vista veramente bella c'è la valle il sai a questo e le montagne c'è tre location di partenza da tra montagne colline e i valli e chiaramente questo comporta una bella differenza anche nel proprio stile di gioco chiaramente nelle montagne sarà forse un po più difficile coltivare però è più facile trovare minerali e tipologi di rocce nelle colline è un po una via di mezzo in montagna probabilmente l'inverno sarà anche un pochino più pesante rispetto che in pianura qua cambiamo il seed bello che poi in futuro possono mettere la possibilità effettivamente di poter interagire con delle città vicine di poter fare i ride eccetera perché questa è una cosa che manca attualmente chiaramente rispetto a rimworld però il fatto che ci sia ci sarà la possibilità questa è tanta roba veramente facciamo il side sì e c'è anche la possibilità di cambiare lo standard del proprio della propria città e anche di bello si modifica veramente in tanti modi è veramente in tanti modi cioè tu i singoli simboli li puoi anche prendere e spostare sulle assi x e y quindi beh dai al momento mi mi tengo mi tengo questo dai almeno è un po brutto ma noi abbiamo la voglia la fretta di cominciare vai vai ok abbiamo allora qui c'è come rimworld la possibilità di scegliere i tre randomicamente chiaramente i tre settler con cui cominciamo i tre coloni con cui cominciamo è possibile randomizzare il singolo settler e chiaramente vedete che ci sono come in rimworld le skill di ogni singolo settler quindi tutte le sue capacità accanto alle capacità oltre a esserci il valore della capacità dove 20 è il massimo e si può superare anche quel 20 e in realtà vuol dire che sei stra ultra schillato sulla sinistra vedete che c'è anche la stellina stellina praticamente determina la velocità con cui quel particolare personaggio guadagna punti esperienza quando sfrutta quell'abilità e quindi la velocità con cui cresce quell'abilità in più ci sono anche i perks i perks sono delle abilità specifiche che possono dargli bonus o malus e quindi diciamo rendere unico il personaggio che si viene a creare c'è anche la religione l'allineamento religioso che ha la eccolo qua il personaggio la sua età quanto pesa quanto è alto eccetera sì adesso vado a caso nel senso che questo è molto bravo questa tiffa in è molto brava a forgiare armi nello scavare anche nel combattimento ed è una bevitrice ha più cose negative che positive sì perché è ghiotta appetito più dieci ma sì va bene è un personaggio simpatico lena la chiamiamo dai gruppo e questo è un riassunto di tutto il il gruppo immagino sì quindi siamo messi bene perché abbiamo comunque nel maneggiare diciamo amministrare gli animali nel gestirli abbiamo 20 perché c'è lei appunto che ha 20 abbiamo 18 in botanica perché c'è lui che è sempre lui o lei insomma ok ce li teniamo buoni così e andiamo questo l'ha riassunto dalla partita ci imbarchiamo per l'avventura ricordo lo avevo già portato un anno fa vediamo un attimo che cos'è cambiato anche se è passato un anno quasi quindi me lo ricordo con piacere però a tutte le particolarità no l'inizio l'avevamo visto posso saltare i tutorial vabbè insomma vast sì sì tutorial sì zx123 le strutture che tra l'altro si possono costruire sono anche molto diversificate per cui sono anche molto fighe bella la grafica mi piace molto è anche bello fluido devo dire allora la prima cosa da fare è mettere in pausa un attimino pausa sì e dare un attimo uno sguardo all'intera mappa in modo tale da capire dove vogliamo costruire il nostro insediamento ecco già lì ci sono i minerali di ferro che spuntano ci potremmo costruire per esempio su un punto che è rialzato chiaramente questa è una campagna peaceful però bisogna vederla in prospettiva del fatto che possono esserci degli attacchi quindi il fatto di costruire in una zona leggermente rialzata potrebbe essere una cosa carina che è tutto rialzato qua scusami è tutto rialzato qua però vedi che c'è questa zona sulla destra esatto quella zona lì dove sarebbe possibile costruire addirittura sopra questi speroni rocciosi che potrebbe essere anche una cosa divertente da fare come vedete come su Rimworld ci sono già delle risorse a terra che sono impedite la raccolta una volta che le avremo selezionate e le avremo date l'ordine di potere che possano essere raccolte in basso a destra i nostri settler li andranno a raccogliere ma solo ed esclusivamente quando avremo designato un magazzino allora mantenendo un attimo la pausa sempre le cose importanti da fare in questo gioco sono adesso noi siamo in primavera ed è il primo giorno di primavera le stagioni si susseguono praticamente di 12 giorni in 12 giorni quindi la primavera durerà 12 giorni dopodiché ci sarà l'estate entro l'estate noi avremo dovuto costruire una stanza sotterranea io direi almeno profonda 2 e possibilmente rivestendola anche con un materiale quanto più isolante possibile per il calore perché dovremo mantenere il cibo che può deteriorare chiaramente con il caldo dovremo costruire un magazzino per il cibo quindi quella è sicuramente una delle cose da fare più importanti se vogliamo fare in modo che durante il periodo estivo le cose che andiamo a coltivare e che andiamo a raccogliere non vadano in deterioramento se tu vai sotto qui scavi qua e fai una stanza sotterranea potrebbe già andare bene se il villaggio ce l'hai qua sopra esatto potremmo fare una cosa del genere esattamente come ci si muove su e giù come altezza allora o c'è il tastino i tasti z e x contando che tu in questo momento se guardi nell'angolo in alto a sinistra sotto alla scritta jobs c'è il 15,5 su 16 quindi devi andare molto giù per poter andare sottoterra oppure io personalmente preferisco tenere premuto il tasto ctrl e muovermi con la rotella ah ok fa la stessa cosa infatti vedete che qua cambia vabbè iniziamo a fare qualcosa giusto per vedere gli inizi allora inizialmente servono anche dei posti letto per questi qua per cui la prima cosa da fare sicuramente è dare l'ordine di tagliare un pochino di legna anche se qualcosa già abbiamo prendo il tasto qua vabbè facciamo uno sguardo rapido qua l'ordine di tagliare di tagliare piantine insomma di distribuire edifici di raccogliere le bacche con le cose lì minare un materiale di cacciare e questo è il classico qua invece diamo un'occhiata alle costruzioni tutto in legno le varie scale le finestre di edifici le produzioni quindi il tavolo del macellaio il campfire e il tavolo di ricerca immobilio quindi tavoli vari abbiamo lo svago quindi il il santuario si sono tutti i santuari diciamo per soddisfare la religiosità dei tuoi settler quelle due ok il banner vabbè e la guerra quindi gli stick le trappole oppure le melature ok e qua abbiamo le zone le stockpile immagino si sono stockpile puoi fare le discariche puoi fare queste cose lì queste cose così poi chiaramente sul adesso tu hai wooden wall per esempio cioè in legno però cliccandoci sopra quando avrai sbloccato ecco vedi c'è già il clay per esempio quindi puoi fare cambiare materiale e usare l'argilla che è un materiale molto isolante ad esempio ma più avanti quando tu sbloccherai altri materiali soprattutto la ricerca sarà possibile utilizzare la roccia la limestone sarà possibile usare i brick quindi mattoni infatti qua vedete che la thermal insulation è 0.6 il clay è invece 0.93 quindi è molto più isolante per tenere caldo e freddo tra l'altro mi dicevi dato che magari in questo video non lo andremo a vedere il concetto della ricerca è interessante sì sì io inizialmente pensavo fosse un bug in realtà è volutamente così quando noi avremmo costruito il tavolo per la ricerca e avremmo impostato come funziona per rimward apri per esempio la pagina jobs ok aspetta che mi metto in pausa le priorità praticamente vedete che esattamente come per rimward diamo la priorità di vari lavori ai vari settler chiaramente dovremmo dare le priorità a quei settler che hanno un alto punteggio nell'abilità corrispettiva al lavoro chiaramente e una bassa priorità a chi invece ha un o addirittura toglierlo il lavoro a chi ha invece un punteggio molto basso noi mettiamo praticamente qualcuno quindi di conseguenza a fare la ricerca che ha un punteggio abbastanza elevato possibilmente in intellettuale questo che ha 7 per esempio non è male sì lui e lo mettiamo a 1 ecco e lui praticamente andrà su questo tavolo da ricerca e inizierà a scrivere libri produrrà libri ogni ricerca richiede una certa quantità di libri io pensavo nella normalità come funziona per tanti giochi che una volta spesi questi libri si distruggessero in realtà no in realtà rimangono come cronache fondamentalmente quindi bisogna costruire un magazzino per contenere tutti i libri che tu andrai a produrre per tutta la partita perché non si distruggono i libri ecco poi chiaramente hai un bonus alla produzione della ricerca se tu lo metti cioè con un tetto sopra quindi devi costruirci non inserve che ci siano per forza i muri però quantomeno un tetto deve stare sotto un tetto il tavolo da ricerca perché in questo caso qua se no ha un malus mi pare che arriva fino al 70% la sua efficienza se invece ha un tetto sopra sì 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 no volevo solo sbloccare il menu in modo da magari far già vedere in che cosa si può svolgere la ricerca infatti si è sbloccato intanto vabbè ho fatto come mai detto sto iniziando ad abbattere vabbè io di solito gioco sempre un po' a cazzo questi giochi ma in realtà bisognerebbe studiarseli bene e andare a farlo nel miglior modo possibile ma hai già dato delle ottime spiegazioni riguardo temperature, le stanze, il conservare i cibi, le stagioni, le temperature appunto delle stagioni quindi è già quello interessante faccio vedere questo è l'orario di lavoro dove è possibile impostare come Rimworld esatto cioè praticamente si impostano fondamentalmente l'orario di sonno l'orario di lavoro e l'orario di divertimento diciamo così o di qualunque altra cosa anything cioè qualunque altra cosa che il settler sente la necessità di dover fare ok interessante anche questa schermata del manage praticamente qua si imposta che tipo di equipaggiamento devono indossare o devono avere i singoli personaggi quindi praticamente cosa giusta da fare già all'inizio la prima cosa da fare probabilmente quella di far impugnare a ognuno dei settler in base alle loro abilità un'arma melee un'arma a distanza come gli archi soprattutto ai cacciatori o comunque chi ha una buona abilità in marksman allora marksman questa è a 14 per esempio è a 14 marksman sicuramente lei avrà deve prendersi le armi ranged esatto se poi tu la selezioni a parte che si può andare a equipaggiare anche da sola lei però se tu la selezioni gli puoi cliccare il tasto destro sull'arco e dirgli di equipaggiarselo ok infatti questo prima ancora di vedere la ricerca se clicchiamo su una persona possiamo prenderne il controllo con draft e quindi siamo noi a cliccare dove andare che è una cosa che si fa in in world ma in pochi altri giochi se non sbaglio e quindi possiamo dirgli c'è un menu contestuale ecco questo lo si usa prevalentemente per quando c'è da fare un combattimento per poter controllare e dire dove andare e chi attaccare se li lasci fare se clicchi adesso per esempio su lena non lo so il tasto destro sulla spada che c'è per terra anzi no credo che l'abbia già raccolta qualcun altro la spada non voglio dire stupidaggi non è uscito equipaggi per prendere la lancia ok ecco vedi che gli dici di equipaggiarla mentre lei invece addosso dovrebbe avere ha un vestiti di invernali possiamo anche impostargli di cambiare vestito outfit in base all'estate e inverno credo mi sembra di averlo visto sì 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 esattamente esattamente e bello questo me lo spiegavi l'altro giorno la velocità la petita cioè tutti i loro parametri hanno tantissime statistiche hanno tantissime statistiche e queste statistiche cambiano anche in base al loro tono dell'umore ma anche alle loro abilità che più vengono incrementate più chiaramente aumenteranno questi parametri al fatto se stanno patendo freddo o caldo quindi si muoveranno più velocemente o meno e la loro quindi velocità anche nel svolgere i vari lavori eccetera questo è il loro tono dell'umore che viene chiaramente influenzato sia da come mangiano dalla religiosità ma anche dalle non molto dalle interazioni sociali per il momento però sicuramente è una cosa che implementeranno come è successo anche per Wynn per sì per Rimworld qua abbiamo sì il mood appunto l'umore e qua invece c'è la parte del dolore il sangue la salute in pratica e sì bisogni insomma di alcol di attività religiosa divertimento cibo sonno adesso arriviamo alla parte più interessante la ricerca la ricerca che mi sembra anche piuttosto ampia seppur il gioco deve essere ancora sviluppato parecchio vai a sbloccare nuove piante nuovi tavoli da lavoro di tutto praticamente inizialmente non si può coltivare quindi la prima roba da fare sicuramente è l'agricoltura che come vedete sulla sinistra oltre a farvi vedere quello che va a sbloccare vi fa vedere che ecco la prima cosa da fare è questo che sblocca un elemento molto importante dell'architettura della costruzione che sono questi wooden beam cioè praticamente sono delle strutture delle strutture di sostegno per quando costruite delle stanze particolarmente lunghe per fare in modo che il tetto non vi cada sulla testa ma lo stesso vale per le miniere che le cose non vi cadano sulla testa quindi c'è bisogno che vada da una parete a un'altra chiaramente e sostiene tutto il peso che c'è sopra quindi se dovete fare un secondo piano o c'è qualcosa al di sopra sì infatti in genere anch'io partivo sempre pianificando le stanze e mettendo il pavimento ma lo trovo comunque già l'avevo notato ma lo trovo se questo gioco è paragonabile un pochino anche a Timber and Stone lo trovo molto più immediato meno macchinoso meno legnoso decisamente decisamente tu che eri un fan di Timber and Stone quasi non ti accorgevi quando mancavano determinate risorse poi tutti gli equipaggiamenti come le pale, i picconi che andavano costruite qua no si usuravano e non ti accorgevi molto frequentemente se ne avevi tanti o pochi qui fortunatamente no i lavori vengono fatti non c'è bisogno degli utensili per il lavoro ecco qua viene suggerito anche il fatto di costruire qualcosa per il cibo per cucinare più che altro facciamo il fuoco e il batch in table poi ecco il batch in table serve solo ed esclusivamente se vai a cacciare quindi se c'è carne no volevo prendere l'agricoltura ma non me la fa sbloccare perché devo produrre 15 libri 15 libri vedete queste sono le caronache queste sono le caronache che dicevi vanno a occupare inventario e la ricerca dà questo rifiuto diciamo che sono caronache conoscenze infatti noi adesso ne abbiamo 25 ma di utilizzabili se io clicco sul pannello della ricerca 10 vedete abbiamo avviabili ne abbiamo 10 cioè 10 libri che non abbiamo ancora usato ma ne abbiamo usate 15 e noi ne servono altri 5 per poter sbloccare il prossimo posso impostargli di generarne 5 esatto allora così ne produce 5 e poi si ferma se no puoi fare forever quindi sempre oppure fino ad averne e ne manterrà un numero che tu gli imposti per esempio gli imposto 10 e lui dice finché io non ne ho 10 non mi fermo quando ne ho 10 mi fermo se ne consumo ritorno a produrre finché non ritorno ad averne 10 cioè è un alternarsi di stile low poly quindi mancanza di dettaglio con le scritte e le decorazioni bello bello davvero come grafica non mi dispiace c'è anche un non so che anche di wildlands si si è vero come si chiama questo stile? voxel? no è low poly voxel anche volendo si si voxel però voxel è più cubettoso sai quelle le facce un po' alla minecraft ma ridotte ancora di più si si ok allora praticamente tu già qua per esempio potresti costruire in legno almeno i quattro angoli della struttura per poi sopra farci un tetto quindi fai una sorta di tettoia clay wall faccio il wooden wall in legno e fai soltanto gli angoli anche fuori dal fuori dal pavimento anche fuori dal pavimento ah tu fai proprio la stanza per intero ok no 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 facevo gli angoli come mi hai detto ma bastava solo un bastava solo un come si chiama un cubo insomma una parete ah vabbè vedete che poi uno dice hai bisogno di farti consigliare in realtà giochi con talmente tanti parametri come questo è utile avere comunque una certa esperienza e non magari perdere delle ore a fare delle cose inutili poi è bello anche scoprire sbagliando eh però qua possiamo creare qualcosa abbiamo produci cibi tu adesso praticamente allora si adesso tu qua puoi impostargli per esempio che produca un tot di cibo fino ad averne non lo so una decina per esempio ecco van più che bene già una decina per il momento però non abbiamo cibo o forse qua c'è qualcosa c'era c'era qualcosa ma poi era vedi che ci sono delle bacche ecco tu prima hai dato da tagliare degli alberi così come erano se tu clicchi su un albero ti dice subito se è in crescita se è morto o se è maturo questo è maturo ti dà 50 di legno questo vale la pena tagliarlo per esempio mamma mia molti piante invece sono in crescita eh sì questo per esempio vedi che ti dà molta meno legna allora piuttosto lo lasci stare ma finché non cresce aspetta che raccolgo un po' di bacche che credo sia con harvest sì però vedi anche lì le bacche non tutte alcune sono in crescita altre invece no questo per esempio è pieno questo è in crescita vabbè io allora clicco sul singolo e faccio raccogli esattamente clicco qui rip lo prendo questo non credo perché dalla grafica si vede abbastanza che sta crescendo ok va bene ci sono anche i funghi cioè tu sei già a un livello di di conoscenza notevole nel senso che chiunque avrebbe raccolto e basta eh ma vedi allora questo è sicuramente un metodo più lento però ottimizzi di molto le risorse valutando che poi d'inverno tutta sta roba muore e non hai più niente vedi la neve dopo ottimizzando quello che stai raccogliendo è una una strategia vincente inizialmente ora di stick tu ne avrai tantissimi perché ogni volta che batti gli alberi avrai un sacco di stick gli stick vengono utilizzati ed è infatti quello che ti suggerirei di fare il tetto se tu selezioni il tetto da fare selezionalo con gli stick perché ne avrai veramente tanti di stick vengono usati anche come fuel quindi come carburante cos'è il wicker? carburante sì come legna da ardere ehm per le cucine i bracieri per questo genere ma cos'è questo? wicker roof stick sì sì e poi come lo tiro il tetto? perché io allora adesso lo tiri da un angolo a un altro eh ok sì 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 qualcosa che manca e allora che cosa facciamo? vai a prendere il beam che abbiamo visto prima cioè quell'impalcatura e la tiri esatto da un angolo cioè da un lato all'altro posso ruotarlo? su una parete lo appoggi su una parete prova da qui? più a sinistra più a sinistra ah da una parete ok no no però più su più su devi appoggiarlo all'angolo scusami devi fare come se facessi tutto il lato esatto lo stavi facendo ok da qui? eh ma lo devi appoggiare perché vai già in automatico ah ok ok capito capito così direi così sì ma non da quel esatto da quel no 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 perché così sei all'interno della casa devi farlo dal al lato esterno così esatto così ok e anche dall'altra parte così perfetto ok spiegarlo parole abbastanza tosta e una volta che abbiamo fatto questo casa un po' di murda ma già adesso potresti fare il tetto ah ok c'era già il progetto di fare quello per cui teoricamente dovrebbe funzionare adesso sì esatto basta vedi perché sorregge la parte centrale che bello sono tutti fermi che dormono adesso e adesso bisognerebbe mettere per esempio infatti i letti in paglia all'interno magari della struttura che è appena fatto anche se non ha le pareti ma giusto per cominciare ecco poi muovendosi no non si vede ancora niente sotto perché perché devi andare molto più giù ah ok sì poi può piacere o meno sta cosa questa è una cosa da dire questa è un po' l'agnomoria che ci fa vedere un po' le cose e andando sotto poi si vede quello che c'è sotto terra quello che c'è esattamente sotto esatto valuta che poi hai tutta una serie anche di parametri di visuale che c'è sulla sinistra come per esempio il fatto di poter mettere o togliere i tetti ah ok vedi che sulla sinistra in alto sotto a esatto quella roba lì c'è la visuale dei tetti sì eccolo lì se tu la togli vedi ti buca il tetto così in modo tale che tu possa vedere cosa c'è sotto sì anche gli alberi sono così belli perché levarli eh esatto però io i tetti in genere li tengo quasi sempre a meno che non debba costruire i tetti li tengo sempre toglie la visuale si sono fermati perché non abbiamo paglia no la paglia ce l'abbiamo eh però stanno dormendo e non so perché l'ena non sta dormendo in realtà no ma mi sa che è esausta ma non dorme in piedi ma perché non dorma non lo so vabbè sì chiaramente questo abbasserà un pochino il tono dell'umore dei ok no eh sono un pirla io non era un bug era ancora sotto il mio controllo ah per la miseria ok eh mi è capitato spesso soprattutto su oven space oven adesso dormirà quattro giorni quattro giorni ecco anche il tavolo da lavoro adesso non si può spostare però per esempio farlo sotto al tetto ti dava un boost nella velocità con cui costruivano le cose ok no no ma era giusto così per far vedere e poi l'ultima cosa che facciamo vedere giusto così in questa infarinatura di gioco è la regione con altre città in cui mi dicevi non si può al momento interagire allora al momento non si può interagire e quelle che si vedono sono tutte città amiche se noi avessimo giocato una partita standard avremmo visto anche quelle nemiche che quindi avrebbero mandato ogni tanto delle scorribande di uomini e infatti un'altra cosa importante oltre a dover costruire sotto terra una come si può dire un posto per conservare il cibo al fresco è anche quello di costruire delle mura intorno al al proprio accampamento o quantomeno se non sono delle mura in un posto rialzato magari con un singolo accesso vedi che per esempio tu per andare nella parte un po' più sotto vedi che c'è questa discesetta sì il fatto per esempio di costruire un accampamento su una zona dove abbia un unico accesso dove magari ci sono o delle scale o questa discesetta tu puoi mettere tutto intorno poi delle trappole che rallentano e feriscono gli avversari che arrivano mentre tu dall'alto magari avendo costruito una struttura un po' più alta ci metti le persone con le con gli archi e le frecce che li bersagliano in modo tale che quando arrivano dovesse arrivare corpo a corpo quantomeno sono già belli che feriti ok me la piazza solo in alcuni punti la trappola ecco adesso l'hai piazzata però in un punto anche ah eh sì ma infatti eh sì sì infatti non me la fa comunque mettere qua dovrei fargli un giro così ora sì bisognerebbe vedere chiaramente da dove arrivano i nemici perché infatti il posto da dover scegliere è sempre una cosa importante però insomma vabbè questo è era giusto così per vedere ah scusami ti ho annullato il lavoro mi immogli la roba lì così vabbè comunque insomma tirando due somme al momento aspettando tutte quella mega quella mega roadmap che non so se andrà avanti un anno un anno almeno credo di sviluppo immagino proprio di sì al momento tu che cosa puoi fare sopravvivi non hai uno scopo vai fino alla città insomma con varie case tutto sommato tutto sommato l'unico scopo che ha Rimward è quello di costruire un'astronave ed andarsene dal pianeta però io credo che la cosa più bella che possa che consente Rimward di sopravvivere così a lungo come gioco è il fatto che quasi le persone non vogliono andarsene vogliono continuare a giocare e sviluppare la propria base ed è la stessa cosa che puoi fare qua perché puoi costruire certi castelli e certe strutture così articolate sia verso il basso che verso l'alto che sono stupende farle funzionare come si deve e questo già il gioco ti permette di farlo per cui il punto forte del gioco secondo me è questo poi se metteranno anche il discorso del commercio che è l'unica cosa che attualmente ne sento un po' la mancanza perché a un certo punto magari riesci a produrre così tante risorse che ne senti la necessità di dire magari un bello scambio sarebbe una cosa utile ma per il resto avere un obiettivo in questo gioco la vedo una cosa personalmente superflua perché già questo è tanta roba e comunque vi assicuro che già acquistarlo adesso vi consente comunque già di avere delle gran belle ore di svago comunque di gioco cioè li vale tutti secondo me i suoi soldi sì perché ricordiamo il prezzo è di 20 dovrebbe essere 22 euro e 99 se non ricordo male quando avevo visto io e comunque niente il è li vale è li vale e quindi niente questo è il going medieval ringrazio mister delrick per aver collaborato in questo video insomma ci ha portato la sua esperienza di gioco già di diverse ore ma grazie a te per l'invito ci mancherebbe ora fateci sapere che cosa ne pensate di questo interessantissimo gioco ripeto roadmap interessantissima e ricchissima nei prossimi mesi quindi se siete dei fan dei giochi di questo tipo alla Rimworld alla Timber & Storm ma ovviamente in chiave un po' più moderna questo è sicuramente il gioco che fa per voi io vi ringrazio ringrazio ancora mister e alla prossima grazie a tutti voi ciao 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 ciao